Quali sono i fattori che influenzano l'aderenza alle terapie per l'ostruzione polmonare cronica e dell'asma e qual è il peso economico legato alla loro aderenza? È una domanda molto complicata perché come abbiamo visto oggi e in molte pubblicazioni non c'è un solo fattore che determina la non aderenza. Penso che in generale dovremmo considerare tre grandi compartimenti. Uno è il paziente ovviamente, uno è il trattamento, inclusi i dispositivi, e l'altro è il sistema, la società, l'interazione tra medici e pazienti, farmacisti e pazienti. All'interno di ognuno di questi gruppi ci sono molti fattori differenti che hanno un ruolo. Può ad esempio essere la comorbilità per il paziente, l'età del paziente, possono essere le funzioni cognitive del paziente, le convinzioni del paziente. Sono molti e differenti i fattori. Non c'è una sola risposta a questa domanda, ma spero che questo dia un'idea di quanto è complicata la questione della non aderenza. Qual è l'obiettivo del congresso? L'obiettivo è di lavorare insieme come un gruppo di scienziati, medici e politici, anche per avere un piano per il futuro per contrastare il problema della non aderenza in tutte le malattie croniche, partendo dalle malattie respiratorie, l'ipertensione, le malattie psichiatriche e urologiche.